Io sono qui per sostenere Luciano D'Amico per una ragione molto semplice, cioè che è una persona che ha dimostrato capacità di gestione rimettendo a posto aziende molto in difficoltà, è una persona colta, è un professore, conosce l'economia e ha un'esperienza e una capacità che è incomparabile rispetto all'attuale governatore. Questa regione ha la sanità letteralmente a pezzi, ha 100 milioni che paga alle altre regioni italiane per far curare le persone, gli abruzzesi, non sta facendo assolutamente nulla sulla parte infrastrutturale. Io penso che sia il caso di cambiare pagine. Guardi, noi come azione non valutiamo mai per principio le persone se sono di centro-destra o di centro-sinistra, ma la qualità delle persone. E secondo me in questo caso la qualità è incomparabile e noi dobbiamo incominciare a votare guardando la qualità dei candidati. Punto. Non per moda, non perché ci mettiamo una targhetta che è destra o sinistra a prescindere, perché se no stiamo consegnando il nostro voto senza ragionare dai cittadini. Io penso che in questo caso stiamo parlando di cose che sono talmente diverse dal punto di vista proprio di competenza, che è una scelta che veramente deve prescindere. Guardi, io non amo il campo largo e per fare questa scelta così convinta e venire in Abruzzo vuol dire proprio che penso che ce ne sia tanto bisogno e che il candidato sia veramente di grandissima qualità. Io posso solo fare questo, poi dopo sta agli abruzzesi e sceglio. Ho visitato, a parte bellissima perché c'ha un Duomo, Sottanelli non sapeva di che epoca, ma per fortuna l'ho aiutato io. C'ha un teatro, un anfiteatro, Sottanelli non sapeva di che epoca, però sono strepitosi. Trepitosi e però va molto valorizzata perché non puoi avere gli scavi romani accanto al Duomo vecchio chiusi e sull'anfiteatro. Bisogna fare, sul teatro in particolare, bisogna fare un lavoro che consenta veramente di aprirlo al pubblico. C'è un progetto? Sì, sì, ma io immagino che ci siano tantissimi progetti e non ne faccio davvero, non mi metto a giudicare Teramo perché non ci vivo. Quello che faccio quando vado in una città è girarla. In particolare rigiro la parte, diciamo, culturale e artistica che è una miniera spirituale di questo paese, non solo per il turismo. E Teramo ha tutte le caratteristiche per farlo. Solo che ci vuole la capacità della regione di mettere dei soldi, di aiutare i comuni a progettare, perché i comuni non hanno più le persone che possono progettare. E di cogliere l'occasione del PNRR. E Teramo è una città interessantissima. Adesso io, per esempio, non sono andato, riuscito ad andare a vedere i mosaici recuperati dalla Domus Romana. Io sono appassionato di storia romana, me ne dispiace molto. E per quello che farò oggi pomeriggio posterò sui miei social tutte le cose belle che ho visto a Teramo per invitare le persone a venire, perché l'Italia va scoperta così, comune per comune. Io mi affido al Presidente, perché è una persona di qualità. È, credo, l'unico caso, o quasi l'unico caso in Italia, in cui Azione ha accettato una coalizione così ampia. E lo ha fatto solo in nome della qualità del candidato. Quindi per me quello che vale è il professor d'amico. Punto. Il resto non mi interessa.